Aspetta, fine allenamento dei giovanissimi, c'è la consegna, una confezione di bocconotti offerti dalla ditta bottega del bocconotto di via Frentana, Cassè Frentana, provvede alla consegna mister Giovanni Di Giulio. Ecco, i nostri ragazzi mangiano i bocconotti di Pierino Bucci, Enrico gli dà pure, lo ringrazia con un pacchetto. Ok, ecco pure Alessio, adesso prendete pure la confezione, Guido, a posto, ok, bravi, sono buoni i bocconotti della bottega del bocconotto, buoni, a posto. I nostri ragazzi si ritembrano con i bocconotti offerti dalla ditta Bucci Pierino, bottega del bocconotto in Cassè Frentano, via Frentana. Ecco l'uomo simbolo, il ragazzo simbolo dei bocconotti della pubblicità, e chi è? Antonio Costantini, qua c'è pure Alessio, se lo mangia adesso no eh, e te lo riporta e non trefà fredhiare, e? Grazie.